Qua si tratta di mettere in modo l'ariete, cercando di far oscillare, però se io tiro di più di quello che necessita, essendo questa una calamita, io fallisco, quindi devo essere molto cauto, tirare solamente nella fase di ritorno, rispettare in poche parole le leggi che sono quelle del stendolo, dei modi oscillanti, che poi si ripetono in strutture fisiche naturali e meccaniche. E quindi devo accompagnare, così è difficile, c'è la posizione, ma si può fare? Poi c'è la posizione più facile, sottolinea una calamita più potente, e in questo caso qui anche il bambino, ma anche la persona che ha meno pazienza può creare e sentire anche qui troppo forte, si stacca, però è più facile. E anche quando vado a rompere il muro, predisposto con delle calamite, Grazie.